Il bentornato negli studi di Temporadio lo diamo oggi ad Enrico Volpi, sindaco di Castiglione. Bentornato tra noi sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti, bentrovati. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, dopo ricordiamo le coordinate per interagire, penso che molti le sappiano, comunque subito dopo la pausa le ricorderò. Parliamo di questa sera, bilancio? Questa sera consiglio comunale, un consiglio comunale probabilmente fiume per il quale è già stata prevista la possibilità di sforare sulla serata di lunedì prossimo anche, perché sicuramente i punti e l'ordine del giorno sono moltissimi e impegnativi, quindi bilancio, un obbligo procedurale assolutamente da rispettare, con la presentazione del piano triennale delle opere, i piani finanziari e la conferma delle aliquote. Sappiamo già che ci sarà un adeguamento relativo all'Atari, quindi è inutile nasconderci che ci sono delle difficoltà per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti, e quindi un consiglio importante e sicuramente molto impegnativo. Tra l'altro, faccio una complessa, però diciamo che riguardo alla gestione dei rifiuti avete avuto dei problemi in seguito anche a una presa di posizione della provincia, Ma allora, non è corretto dire che ci sia una diretta influenza su questo, perché la gestione dei rifiuti, la tariffa deve essere coperta, il servizio di gestione dei rifiuti deve essere coperto dalla tariffa e quindi non è esatto ribaltare costi di altri servizi che sono eseguiti dalla municipalizzata. Certamente sui costi generali il fatto che l'impianto Bottini non stia lavorando si riverbola su un impegno della municipalizzata importante che ovviamente si cerca di calmirare. Il problema invece di regolarizzazione dell'Atari e di adeguamento dell'Atari è dovuto sicuramente a una necessità di investimenti importanti, ci sono oltre 200.000 euro di investimenti per attrezzature, una pala per la piattaforma ecologica nuova, attrezzature specifiche per la gestione del rifiuto, oltre 100.000 euro di costi e questo lo ricordo ogni volta legati alla necessità di raccolta di rifiuti abbandonati in giro per il paese e ancora questa settimana si sono ritrovati situazioni veramente inquietanti in mezzo alle campagne di Castiglione che sono per noi un patrimonio e qualcuno invece continua a utilizzarle come una discarica e per la ridifferenziazione, altro aspetto molto grave, la ridifferenziazione del verde perché nelle piattaforme ecologiche in giro per il paese dove c'è la raccolta del verde in quelle ceste finisce di tutto e abbiamo una persona addetta quotidianamente per lo smistamento e la ridifferenziazione di quel materiale che ha nettamente e chiaramente un costo sulla gestione dei rifiuti. Questi i punti fondamentali uniti al fatto che soprattutto per quanto riguarda la gestione degli immombranti e dei rifiuti di grandi dimensioni abbiamo un aumento sul mercato nel costo di smaltimento di molte decine di euro a tonnellata e quindi questo va ad influire sicuramente sulla necessità di un ritocco della tariffa. Ricordo che il numero, la percentuale che appare è sicuramente molto significativa, dall'altra parte non c'è un'utenza che a Castiglione avrà un incremento di spesa annuo superiore ai 24-25 euro mi sembra. Quindi stiamo parlando di cifre che sulla massa naturalmente sono assolutamente importanti, sì, questo è indiscutibile, ma che sull'utente porteranno una differenza non molto significativa durante l'anno. Per cui appunto, comunque precisiamolo, è giusto dirlo Sindaco, il cittadino non è che andrà a tirar fuori non sa che cosa in più. No. Nel complesso, essendo 25 mila abitanti, cos'è? E' una cosa assurda effettivamente quello che è stato scoperto anche questa settimana con addirittura scarichi di... E' una cosa assurda e che cercheremo di combattere in tutti i modi. Stiamo acquisendo delle telecamere da poter piazzare sia nei punti di raccolta del verde in maniera mobile e non fissa, sia in giro per il territorio in modo da consentire di intercettare questi furbetti, chiamiamoli così, mentre io li ritengo assolutamente incivili, che preferiscono gettare la borsina di indifferenziato in giro per le campagne o nella cesta del verde invece di differenziare correttamente a casa o andare alla piattaforma ecologica. Questo è un comportamento che va a discapito della salute e del portafoglio di tutti che dobbiamo tutti insieme contrastare. Infatti io invito chiunque veda situazioni di questo genere a segnalarle perché la possibilità di perseguire chi si comporta in questo modo c'è e dobbiamo trovare la maniera di attivarci. Certo. Allora, ovviamente invitiamo gli ascoltatori a inviare i messaggi, tra poco daremo anche le coordinate tutte quante, ci fermiamo un attimo con il primo cittadino di Castiglione Enrico Volpi, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Questa è la seconda parte di Filo diretto con gli ascoltatori che stiamo trascorrendo in compagnia di Enrico Volpi, sindaco di Castiglione. Abbiamo un ascoltatore in linea che adesso sentiremo. Ricordo che sms e messaggi whatsapp vanno indirizzati al 338 17 19 105. Per chiamarci, le linee sono sempre aperte, come ha fatto questo ascoltatore che sentiremo adesso, 0376 63 17 09. Vediamo che abbiamo allora. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo fare una domanda a proposito di quel famoso gruppo elettrogeno a olio pesante o frigitrici o qualcosa del genere, obsoleto perché mi pare che sia stato costruito o omologato nel 65. Costato agli italiani mi pare circa 600 mila euro, valore commerciale 25 o 30 mila euro. Chi paga lì? Sempre gli italiani? Non paga più nessuno? Non lo so. Volevo solo chiedere un'informazione. Se lei gentilmente me lo può dire. Benissimo. La domanda è chiarissima. Le faccio rispondere tramite radio. Se vuole il sindaco può togliere la cuffia, che non è abituato, non aggradisce molto. Sì, grazie per la domanda. Allora, in questo momento la magistratura sta facendo le sue verifiche e le sue attività. Confermo che non solo chi paga sono sempre i cittadini, ma chi ha già pagato sono sempre i cittadini, perché Indecast ha già messo 500 mila euro a perdita per quanto riguarda, mi sembra l'anno scorso o l'anno prima ancora, per quanto riguarda la questione gruppi elettrogeni acquistati. In questo momento la magistratura sta facendo le sue verifiche. Noi non abbiamo altre informazioni. Di certo quei motori non sono utilizzabili, non saranno utilizzati e il valore è molto più basso di quello che è stato il valore di acquisto. Certo. Allora, quindi questa sera a questa riunione, poi tra l'altro parliamo anche, adesso daremo voce anche ad alcuni messaggi che stanno arrivando. La prima riunione della Commissione Agricoltura, tra l'altro non c'era mai stata la Commissione Agricoltura, Castiglione? Assolutamente sì, ci sono alcuni aspetti che a volte non sono così tanto conosciuti, ma si è tenuta nei giorni scorsi, per esempio, la prima riunione della consulta agricola a Castiglione, una commissione che non si era mai costituita, che invece per volontà di questa amministrazione e degli agricoltori di Castiglione è stata attivata e che è già molto operativa, con una partecipazione da parte dei agricoltori assolutamente molto intensa, hanno parlato naturalmente del problema nutrie, hanno parlato della pulizia e la manutenzione dei fossi, ci sono punti molto importanti che riguardano le nostre campagne e il nostro ambiente che vengono affrontati in maniera sistematica e molto approfondita. Ma tornando sul discorso del bilancio e del consiglio di questa sera, come dicevamo c'è il bilancio, ma ci sono anche molte altre cose assolutamente interessanti, perché per esempio andiamo ad approvare il nuovo statuto di Aspam, un'azienda consortile per la gestione dei servizi alla persona e dei servizi sociali, diciamo così per semplicità, nella quale si è registrato l'ingresso finalmente anche del comune di Cavriana, quindi a questo punto tutto il distretto è coperto da Aspam e c'è un'invocità e corrispondenza tra il distretto sanitario di Guidizzolo e l'azienda consortile. Ricordiamoci che entro il 2020 il distretto di Asola e il distretto di Guidizzolo dovranno necessariamente essere unificati e sarà necessario costituire anche lì un'azienda consortile che copra tutto questo enorme distretto. avere in questo momento Aspam così solida, così capace e così riconosciuta è un punto molto importante, esattamente come è molto importante l'approvazione della convenzione per quanto riguarda la lette bibliotecaria mantovana, nel quale passiamo da tre sistemi diversificati a livello provinciale ad un unico sistema che coinvolge tutta la provincia con capofile al Comune di Mantua, ma nella quale Castiglione fa una parte da protagonista molto significativo l'apporto che Castiglione dà a questo sistema basta dire che il dirigente che gestirà tutto il servizio bibliotecario mantovano è il dirigente che era di Castiglione che viene comandato sul servizio provinciale, quindi un ruolo importante che credo sia giusto tenere in considerazione. Tra le altre cose che stasera discuteremo chiaramente è il piano triennale delle opere, nel quale confermiamo 450 mila euro previsti per la realizzazione della rotonda di Porta Lago e altrettanti 450 mila euro per la manutenzione stradale di questi sicuramente circa 200 mila sono pronti da investire immediatamente con una scaletta piuttosto dettagliata, anzi molto dettagliata delle strade che hanno la maggiore necessità di interventi urgenti quindi opere e argomenti importanti per tutta la comunità che credo siano significativi per tutto lo sviluppo del 2018. Rotatorio è quella all'intersezione con l'ex statale praticamente? Assolutamente sì. È uno degli incroci più pericolosi della Lombardia. Non so se la Lombardia, di Castiglione sicuramente è molto pericoloso è necessario lì rallentare il traffico delle auto che arrivano da Desenzano soprattutto perché la visibilità è scarsa e consentire un accesso all'incrocio più sicuro. Non sarà possibile fare una rotonda molto grande ma il fatto che l'ostacolo e l'allentamento ci sia consentirà una razionalizzazione del traffico in maggiore sicurezza. Certo, assolutamente proprio. Dunque ci sono tantissimi messaggi anche ce n'è più di uno anche che riguardano anche le elezioni in uno le chiedono se per caso lei per esempio appoggerà Novellini che sa che è candidato alla Regione e in un altro che chiedono quale è il futuro se Dara penso lei appoggerà che è candidato invece alla Camera quale è il futuro che diventerà vice sindaco? Allora, premesso che credo che sia molto positivo il fatto che abbiamo molti esponenti castiglionesi che si muovono e che hanno la possibilità di raggiungere posizioni importanti in Regione o sul Governo centrale cosa che da tempo non si vedeva e la possibilità che il nostro territorio ha in questo momento di esprimere dei rappresentanti a questo livello è fondamentale per la tutela del nostro interesse e di tutto il territorio dell'Alto Mantovano. Vedo che c'è una presenza importante nel centro-destra da parte sia di rappresentanti per la Regione sia di rappresentanti per il Governo altrettanto c'è una presenza per quanto riguarda centrosinistra io credo che abbiamo la possibilità in questa tornata di dare voce al nostro territorio che ne ha molto bisogno. Allora le unisco altri due messaggi uno dice in centro c'è un certo movimento la sera bravi e un altro opposto cita una persona che ha detto che il centro storico è ancora deserto ma questi comunisti contro tutti quando erano al Governo oltre al nulla cosa hanno fatto? Vabbè insomma a parte la parte polemica della seconda parte del messaggio c'è ancora tanto lavoro da fare per quanto riguarda il coinvolgimento dei cittadini e la ribitalizzazione nel centro storico con una serie di manifestazioni siamo riusciti a dare vita al periodo natalizio con anche successi importanti gli esercenti stanno iniziando a rispondere noi durante l'estate sicuramente avremo una serie di manifestazioni importanti che coinvolgeranno tutto il centro della città e non solo perché l'importante è non dimenticarsi che ci sono anche le periferie è in programma un festival del jazz sono in programma alcune manifestazioni di ampio respiro noi dobbiamo lavorare per fare in modo che la gente abbia voglia di andare a vedere cosa succede nel centro di Castiglione condivido che il lavoro da fare è ancora tanto dunque bravo Volpi finalmente il paese è bello grazie c'è anche questo messaggio poi telecamere non sono d'accordo per la privacy dice un ascoltatore e ascoltatrice insomma non saremo d'accordo per la privacy ma il numero di eventi di furti e di segnalazioni di problematiche sulla città è troppo alto ultimamente c'è stato anche un rigurgito di queste situazioni che vanno contrastate io ringrazio la compagnia dei carabinieri di Castiglione che sta facendo che sta facendo un lavoro eccezionale che è presente moltissimo con la prefettura abbiamo lavorato per intensificare i controlli e sono recenti anche interventi importanti che sono stati fatti sia su quartiere Cinque Continenti che sul resto della città la prefettura stessa ci dice è importante avere un sistema di telecamere noi siamo felicissimi di aver avuto la possibilità di installare il sistema Varchi che nel giro di qualche giorno avrà la sua inaugurazione tra l'altro salutiamo Oscar il quale invece invoca le telecamere perché dice ci sono ancora i ladri purtroppo lo dice anche la cronaca quindi insomma allora parchi più attenzione anche dicono anche bisogna capire cosa si intende per più attenzione se è più attenzione per quanto riguarda alla frequentazione questo è assolutamente vero c'è la necessità di avere controlli però i gestori dei due parchi stanno facendo un lavoro importante per quanto riguarda invece la manutenzione a me sembra che il lavoro venga fatto e che la qualità dei nostri due parchi sia riconosciuta anche fuori dal nostro paese allora saluto Sergio che voleva sapere quando riceve in comune io ricevo tutti i giorni è sufficiente chiamare la nostra segreteria e chiedere un appuntamento annuncio che le liste sono molto lunghe siamo quasi un dentista perché il numero di persone che viene a parlarmi è altissimo ma io tutti i giorni soprattutto dopo la pausa pranzo sono disponibile per parlare con tutti i cittadini le chiedono che deve sistemare le voragini dice in via Malzini ce ne sono di voragini via Mazzini via Dottorina via Vivaldi ce ne sono situazioni pesanti approviamo il bilancio stasera e poi partiamo con gli interventi di manutenzione sulle strade come va con l'assessore Paganella tra l'altro in un altro messaggio le fanno i complimenti per aver scelto l'assessore Paganella dice che una capitale come Castiglione merita merita appunto un teatro di questo tipo con l'assessore Paganella molto bene e approfitto per ricordare a tutti che grazie anche all'opera dell'assessore Paganella e di tutta l'amministrazione abbiamo finalmente chiuso e riusciamo a organizzare il convegno internazionale per il 18 di marzo per il 450esimo della nascita di San Luigi Gonzaga un convegno che studierà la figura di San Luigi e della compagnia di Gesù in maniera approfondita con relatori di livello internazionale faccio qualche nome c'è il magnifico rettore della Università Gregoriana di Roma c'è il c'è Peter Asman del Ducale ci sono personaggi di altissimo rilievo per una giornata di approfondimento importante collegata a una mostra che verrà eseguita all'interno del collegio delle Vergine di Gesù una mostra iconografica di altissimo livello di altissimo pregio credo che con l'assessore Paganella si stia lavorando in maniera assolutamente brillante e molto profigua per la nostra città bene siamo in chiusura ci sono degli altri messaggi che le teniamo sindaco per la prossima volta ringraziamo tantissimo Enrico Volpi sindaco di Castiglione dell'Estiviere grazie a voi per rivederci la prossima volta grazie grazie